Partenza gruppo Criluma, tre Pullman per l'Alimatà. Siamo arrivati all'alloporto di Male. Siamo arrivati all'alloporto. Una delle barche, siamo circa cinque barche, sei barche anzi, fatevi aspettare. Campo di pader, campo da tennis, da calcetto, veramente eccezionale come isola. Gino che be', com'è bello? Com'è bello? Com'è bello? Guardate che bello, guardate quanti siamo, guardate quanto siete belli! Guardate! 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 Tanti auguri a Francesca, tanti auguri a te! Guardate! 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 Grazie a tutti.